È facile perché abbiamo sbloccato subito il risultato, ma non è stata la più facile. È stata una partita come tante altre. Anche il giro d'andata, con la Gnonesi, con la San Maurese, anche con il St. Sant'Arcangelo, a fine primo tempo stava, credo, 2-3-0. Quindi, più o meno su quella falsaria, siamo stati bravi ad avere l'approccio giusto. L'approccio non l'hanno mai sbagliato, dobbiamo migliorare poi dopo. Dopo dobbiamo migliorare ancora un po'. Ha ancora margine di miglioramento, secondo me, questa squadra. Nella gestione del risultato, abbiamo concesso troppo. Anche oggi? Sì, anche oggi. Poi, che sia normale, è vero. Che ci possa stare, è vero. Perché siamo alla 26esima partita, quindi ci sta tutto. Però, dobbiamo fare anche quel salto di qualità lì, secondo me, per essere ancora più forti. Domenico, con Francavilla, abbiamo concesso molto meno. È sicuramente un discorso mentale. Ho giocato a calcio, so come funziona. E fa parte del gioco. Però, bisogna sempre stare all'asticella.